Scoperta dai carabinieri di Rimini una presunta frode in competizioni sportive in concorsi nel mondo della danza professionistica. Otto gli indagati tra giudici federali, direttori di gara e istruttori della FIZ, Federazione Italiana Danza Sportiva. Eseguite sette misure coercitive e interditive per tutti l'accusa a vario titolo e frode in competizioni sportive in concorso. L'operazione è stata eseguita nelle province di Milano, Monza Brianza, Varese, Terni, Reggio Calabria, Matera e anche Bari. In particolare è stato applicato il divieto di esercitare professioni o rivestire incarichi all'interno di società sportive per sei mesi a un istruttore di danza e a due giudici federali FIZ. L'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria per un direttore di gara FIZ e tre istruttori di danza. L'intera frode ruotava attorno alla figura dell'istruttore di danza Tesserato FIZ che risulta tra i sette indagati. Era uno degli istruttori FIZ infatti a ricevere le segnalazioni sugli atleti da favorire. Una volta vagliate e valutate le comunicava ai giudici, direttori di gara o ad altri soggetti che poi avrebbero contattato le giurie. Il GIP di Rimini ha disposto vari provvedimenti cautelari interdittivi e coercitivi al termine dell'indagine. È stato anche denunciato un dirigente centrale della FIZ per il reato di omessa denuncia. Non avrebbe segnalato l'autorità giudiziaria gli illeciti sportivi.